Chi l'avrebbe mai detto? Durante l'edizione 2023 della Dragon Ball Games Battle Hour è arrivato l'annuncio che nessuno avrebbe immaginato di sentire. Bandai Namco ha infatti annunciato un nuovo, Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi, e in questo momento non ne sappiamo assolutamente niente. Sì, perché non sappiamo se si tratterà di un remake o di un sequel, non sappiamo neanche un'ipotetica finestra di lancio e ovviamente non sappiamo niente di quella che è l'esperienza. Le uniche informazioni che sono in qualche modo trapelate sono quelle di un progetto ancora in fase chiaramente embrionale su cui dovrà essere svelato tanto, tanto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Comunque sia, la notizia è sicuramente positiva, siamo tutti contenti, saremo ansiosi di scoprire le novità, ma appunto per adesso purtroppo non c'è altro. Quindi per adesso accontentatevi di questo short a modo mio e poi quando sarà ne parleremo un pochino meglio. Ma intanto si può gioire. Grazie a tutti.